Musica Ciao a tutti ragazzi sono Ben dello staff di Ultimate Team FIFA Italia e sono qui con il secondo episodio del FIFA Challenge Allora nel primo episodio sono stato battuto da Muniaz di Let's Play FIFA Oggi invece andrò a giocare contro FIFA Gamers24, un altro youtuber importantissimo che ci sta sponsorizzando e dobbiamo dire che ringraziamo veramente tanto Nel terzo episodio andremo a sfidare DAV, quindi il terzo speriamo che non sia l'ultimo perché vorrebbe dire quindi andare in finale Infatti in questo momento DAV e Muniaz sono primi con tre punti, mentre io e proprio FIFA Gamers che andrò a sfidare oggi Siamo fermi a zero punti, quindi speriamo di vincere oggi e poi speriamo che i ragazzi nel loro scontro diretto pareggino Magari così si riequilibrano un pochettino le cose Quindi adesso aspetto FIFA Gamers24, aspetto che accetti il nostro invito e ci vediamo, ci becchiamo nella partita Ecco la squadra di FIFA Gamers24, abbiamo un paio di giocatori in comune, bassa intesa però tanto bug Io invece ho optato per la mia squadra per la quale ringrazio Ammar, Ammar Mohamed Una squadra più coperta che però ha due punte molto forti che sono Arizala e Vietto Quindi andiamo a giocare la partita Arizala, attenzione davanti la porta solo, mamma che si è magnato Arizala Queste stronzate soprattutto nel disimpegno e poi con sta stronzata mi prendo il 1-0 E io odio la cazzo di difesa, i due difensori centrali quando porco cane devono andare a marcare Insieme il portatore di palla e lasciano ovviamente libero il bagato di turno Arizala, Arizala, Arizala a centro, a centro, attenzione a Bamba che si stava per fare l'autogol porca puttana Oh ma che cazzo fa la difesa, vaffanculo va, ma che porco demonio, ma che cazzo fa la difesa Stanno dormendo sti coglioni, ma vaffanculo Ma guarda lì, ma che cazzo, sti gol li odio, li odio proprio Poi il passaggino, mamma mia quanto li odio sti gol E basta, e basta dai Abbiamo capito che ha segnato a Luco qua, ma che cazzo è a Luco Zucculini, attenzione a Guerron Sì cazzo, 2-1 Va a prendere sta palla, va a prendere sta palla E mo' ce la giochiamo cazzo, vai cazzo Splendido l'apertura sulla destra di Zucculini E segna, questa è una partita totalmente diversa da quella contro Mugnaz Cioè, contro Mugnaz è stata molto equilibrata Però, infatti è finita 1-0 Però mi sono divertito molto Invece qui mi sto incazzando Che è la tipica partita di FIFA Però si sa che FIFA Gamers è bravo a giocare Quindi, Arizala Arizala ancora, Arizala, 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 vai Arizala, Arizala, no, ma che cazzo Hai fatto tutto così bene Ma... Ma... Vai Arizala Arizala 2-2, cazzo Arizala Arizala Mamma mia Struzzata del portiere, ma... Mi dispiace, ma dovevo recuperare Non mi andava di perdere ancora Non mi andava di perdere ancora Gutti Gutti per Arizala 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 Il tiro, la parata Arizala ancora di testa Che parata di scuffè Questo è fenomeno Nella realtà è su FIFA Porca puttana Tira, porca troia Non fare partire il contropiede Uccidi, uccidi No, 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 no Ora no, ti prego Meno male che Quamfran Finisce il primo tempo, ragazzi Partita bellissima Partita bellissima Un po' nervosa Nel senso che comunque Quando ci sono questi errori Difensivi Mi incazzo Però ovviamente Buonariamente Adesso Andremo a giocarci questo secondo tempo 5 tiri in porta Per me 3 per lui 7 totali 5 meie totali Quindi Andiamo a giocarci Il secondo tempo Burbano Oddio Mate Oddio Vietto Oddio Vietto Oddio Arizala Arizala Tira Iena Bomba 3 a 2 3 a 2 Arizala È mostruoso Cazzo È mostruoso Mamma mia Mamma mia Che gol Si parte bene nel secondo tempo Una partita fantastica Piena di gol Tipica di FIFA 15 Ecco Arizala Ha proprio bucato la porta Va bene Perché mi ostino a fare Ste stronzate Per Oh No 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 Si è visto Cazzo Ma perché Sei così lento Ma Yuka mi segna Il 3 a 3 Ma vaffanculo In contropiede Porca puttana A Juanfran del cazzo Va Ma vaffanculo Ma vaffanculo A Juanfran del cazzo Che non rientra bene Si era capito Che era libero Lì sulla sinistra Si era capito Che odio Burbano Fagli il cucchiaio Mamma Se entrava Se entrava Zuculini Ma che cazzo Zuculini Ah Cazzo Cazzo Come ti chiami Simo Vai tiro Ma è entrata È entrata Cazzo È entrata Madò Vediamo Tecnologia No gol Ma dai Ma dai Ma stile Muntari Tutte a me Che sfiga Bastava un centimetro Al di là E avrei segnato Porca puttana Juanfran Etta Che odio Che odio Quando fanno così I cazzo Di difensori Mi escono E girano No 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 Non è giusto così Porca puttana Porco Demonio Ladro Bastardo Demonio Sti cazzo Di gol Così li odio Li Bastardo Demonio Fanculo Per fargli il passaggio Filtrante A lui Maffanculo 4-3 Seconda Sconvitta Nella FIFA Challenge A me dispiace Però Purtroppo Ci sono partite Storte Questa in realtà È stata bellissima Però È andata così Poteva vincere lui Potevo vincere io Poteva finire pareggia Alla fine ha vinto lui Con un gol Di Arisala Sì Cioè Arisala È stato penso Il migliore in campo In tutte e due le squadre Lui ha avuto diverse occasioni Devo dire Ma anche io Anche io Adesso andiamo a vedere Le statistiche Andiamo a vedere le statistiche Ti rimporto uguali 7-7 Lui ha fatto 3 tiri in più fuori Che sono quelli Magari iniziali In cui si è mangiato Un paio di gol Vabbè Ragazzi Io rimango fermo a 0 Mentre FIFA Gamers Fa a 3 Adesso a questo punto Posso solo sperare In un pareggio Fra Scusate il rutto Let's play FIFA E DAV Però comunque Lo spirito Della manifestazione Di Della manifestazione Nel senso di FIFA Del FIFA Challenge Non è Dobbiamo vincere per forza Ovviamente Ma è quello di divertirsi E di farci conoscere Per questo ringrazio tantissimo FIFA Gamers 24 E anche per la bella partita Perché Si vede che Comunque Eppure bravo a giocare Anzi abbiamo Dei modi di giocare Simili Solo che io sono più scarso In difesa Quindi Nel frattempo Vi raccomando Passate Dai canali Di Let's play FIFA FIFA Gamers E DAV E il green Che è l'organizzatore Del torneo Iscrivetevi al nostro canale Mettete un mi piace Se vi è piaciuta Questa partita Ci vediamo Nel terzo episodio Il FIFA Challenge Contro DAV E' l'organizzatore